L'incidente nella strada di venerdì 8 gennaio, poco prima delle 20.30, sulla strada provinciale 61 a Badissero Canavese. Una Peugeot 208, condotta da una donna di 60 anni, residente alla comunità di Damanhur, ha perso controllo della vettura, che si è ribaltata su un fianco in mezzo alla strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, due ambulanze di soccorso avanzato della Croce Blu di Ivrea e della Croce Rossa di Castellamonte, i carabinieri del nucleo radiomobile e di Castellamonte. Ad allertare i soccorsi è stata un'ambulanza di base della Croce Rossa di Castellamonte che stava transitando per rientrare dopo aver effettuato un servizio. La donna è stata estratta dalle lamiere e affidata ai sanitari. Dopo le prime cure è stata trasportata all'ospedale di Ivrea. Non è in pericolo di vita. La dinamica è il vaglio dei carabinieri. La donna è stata trasportata all'ospedale della Croce Rossa. La donna è stata trasportata all'ospedale della Croce Rossa.